Unità in seguimento in corso di un veicolo del magia Agenti presso Davieshert, convergere sul luogo del reato Avete infratto la legge, fermate il veicolo Vi arresterò per tentato corruzio Ehi, la Amered non vi ha mandato a scuola guida Ancora? Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto Chiudiamo questa Uh, che sballo la vita da criminale Auto veloci, proiettili vaganti, prigioni federali Va bene Spider-Man, da qui ce ne occupiamo noi Oh, fai il gesto con la mano Ehi, guardami Alla grande, gli hai mostrato chi comanda Ehi, Spider-Man, questa città non ti muore Abbiamo già abbastanza problematica Ma è tornata la norma C'è qualcuno rinchiuso in quel bagagliaio Sente anche nel bagagliaio Il carpooling inizia ad andare fuori controllo Grazie Spider-Man È finita La polizia sarà qui a momenti Farò bene a sparire prima dell'arrivo della polizia La polizia sarà qui a momenti